Piedino trasparente per il quilting e guida, quilting in miniatura Potete usare il piedino trasparente per il quilting con l'apposita guida per realizzare cuciture di un ottavo di pollice per quilting in miniatura. Prima di tutto inserite il piedino e scegliete un punto dritto. Allineate il tessuto alla linea guida rossa ed iniziate a cucire. Mentre cucite, guidate il tessuto sotto la linea guida. Realizzerete così una perfetta cucitura di un ottavo di pollice.